a barbie family bentornati in un nuovo video unboxing piano piano stiamo unboxando tutto siamo ancora nella cameretta di simona che c'è un casino vabbè tanto è carino come sfondo quindi beccatevi questo un po così c'è lo gambetto che moscio e moscio e moscio e moscio e moscio vabbè non ci incischiamo andiamo ad aprire lei ve la ricordate la barbie made to move che avevo preso 6 euro 8 euro su vintage eccola qua nuova si la scatola è un po andata vabbè però chi se ne frega perché tanto noi l'unboxiamo la barbie made to move quelle nuove si non è uscita da molto è la pallavolista scatole come tutte le altre l'art work di barbie e la sua amica che non penso che l'hanno fatta comunque perché non si è deformato si è deformato si è il calore vabbè ho dovuto togliere la custodia perché bolliva poi scaricato ttoc questo telefono oddio c'è raga sta il telefono sta bom 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 devo cambiarlo e mentre il retro è uguale agli altri avvertenze varie che hanno non ce ne frega niente c'è la tenista che abbiamo già aperto e abbiamo già sguappato bene andiamo subito ad aprile tanto che veloce allora allora ciao ragazzi qua è lo sfondo è una palla qua via fra un po peccavo lo schermo la pallina col suo portadito la barbie lei perde i capelli mette appoggio lì poi lo buttiamo fuori lei è la classica mode millie un'altra un'altra manca poco abbiamo già iniziato a prendere da action per la macchina come l'anno prossimo certo perché quest'anno non la facciamo come l'anno prossimo no l'anno scorso ma l'anno prossimo quest'anno non la facciamo come l'anno scorso scusa quindi e quest'anno faremo qualcosa magari poi vi portiamo con noi l'anno scorso ti so dove ma ti stai preparando l'anno scorso guarda abbiamo passato un halloween ma l'hanno visto no sì invece abbiamo fatto il video abbiamo fatto il video ecco l'anno scorso abbiamo passato halloween con un gattino che si era perduto alla ricerca non è vero alla ricerca del padrone che poi alla fine abbiamo trovato perché ho fermato tutte le macchine nella zona e ho chiesto perché facevano gli spari e tutto quanto e il suo gattino aveva paura quindi l'abbiamo fatto salire in macchina ma poi non voleva più andare via gattino ci seguiva e saliva in macchina da solo però noi non poter portare a casa anche volendo perché abbiamo tutto il cano quindi invece il gatto diventava un rana poi quindi basso che avevo del cerume in questo orecchio mi è partito nell'altro orecchio comunque lei è barbie la semplice classica barbie mille cent 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 capelli lisci riga in mezzo classica come la bionda bella bionda la pallavolista ma noi l'abbiamo presa soprattutto guarda le altre tastiamo la testa la testa non è molto dura ma ti piace la mia ciabatta guarda molto bella e molto puzzolente dai ma cosa ho fatto è passata la guerra mondiale vabbè allora indossa la la sua divisa da pallavolista maglietta maniche lunghe con scritta 59 davanti arancione bianca viola e maniche più sfumate sempre le tre sempre le tre e la domenica sempre le tre no Alessio vuole uscire che pizza ma domenica che numero è? che ne so io che numero è domenica e poi noi stavolta sera dobbiamo uscire e se sarà il mio compleanno i regali li apro sabato strap dietro viola ok mi ha caduto avanti pantaloncino viola tutto completamente viola non è male senza strappo senza niente non è male abbiamo delle ginocchiere bianche e scarpe da tennis argento che non ci azzeccano un cavolo con l'outfit il numero viola è arancione col bordino eh l'abbiamo detto poi in dotazione abbiamo la palla bianca con una B qua penso che si veda non lo so se non si vede non posso farci niente vi andate sulla parola che si ficca nel pollicione che così lei la può lanciare posso lanciartela Simona per fare la prova? posso lanciarla? non si allunga non si allunga ah no no sabato sabato ah no no di sabato sabato no eh ah 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 Ti ha sentito il vicino Non ho lei Che ha le finestre chiuse Hai capito? Porca vacca Stanotte è da sogno Allora Le articolazioni Spalla Entrambe Avambraccio qua Entrambi Gomito Entrambi Duro Entrambi Però è durino È duro Oddio Polso Entrambi Coscia Entrambe Sovracoscia Entrambe Sovracoscia Coscia Ma che serietà è questa? Poi ci sono gli altri che fanno gli unboxing Che lo mettono là Allora Stai facendo? Cosa stai facendo? Dai basta me la rompi Adesso Devo dire che non c'è bisogno che aumento il volume Nel video Nel video Nel video Nel video Nel video Dai ma adesso c'è tutto il sapore in bocca di quella roba lì Eh? Dai No Ma è salvietta No Salviette pulisci il culo Bene Adesso andiamo in live Ok Ok Scema Ma scema Che più scema non si può Ok Bene amici Ve lo consiglio L'acquisto Cosa c'è? Ti è partito un timpano Bene Per tutti i miei timpani E i loro timpani che sono partiti Chi è? Che cagucati un suo telefono Ma perché è a 63? Perché non è stato carica Ah? Era scarichissimo Spocchiamo No Bene Allora consiglio l'acquisto Lei penso che consigli l'acquisto Ma Non penso che rimarrasso con questo Se abbiamo Qualche testa C'è ancora un'altra box Sì Se abbiamo Seduta Seduta sempre Bobi 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 Se abbiamo Qualche Testa Volante Da mettergli su Certamente Si sguapperà Swap Swap Andiamo in live Andiamo in live Ma che deficiente Consiglio l'acquisto? Certo Ciao ragazzi Ci vediamo A un prossimo Video Like Iscrivetevi al canale Attivate Perché se no Non si riprende più Se non vi iscrivete al canale Ciao ragazzi Saluta Oh sto chiudendo Saluta C'è la cimice No no Simona Dov'è? Dov'è? Non sento Sì L'ho sentita io Eh Non è vero Sì no Te lo giuro Che l'ho sentita Oh non faccio più la live Porto giù la prestation Nini Vai prendere la cimice Ma tu sei sempre in cazzo Vabbè dai Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Like Iscrivetevi E ciao Se no Ciao 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 Ciao